Salve a tutti, in questo brevissimo tutorial vedremo come fare per invitare tutori nella nostra classroom. Clicchiamo nella sezione persone, nell'elenco degli alunni, individuiamo gli alunni che ci interessano, di fianco al nome di ciascun alunno compare il pulsante invita tutori. Clicchiamo su invita tutori, digitiamo il nome o l'indirizzo email che vogliamo associare a quell'alunno e in questo caso inserirò l'indirizzo email, l'indirizzo email che i genitori o i tutori hanno fornito e clicco su invita. Come vedete lo studente che corrisponde al nome di prova studente 2 risulta avere un tutore invitato. Andiamo a vedere che cosa succede invece al genitore che è stato invitato. Il genitore che è stato invitato riceve una mail, cliccate sulla mail, sei stato invitato come tutore in Google Classroom, cliccate su accetto, vi viene chiesto di confermare la mail e quindi state attenti che la mail sia effettivamente quella che avete fornito alla scuola, accetto. Riepiloghi via mail di Google Classroom, potete stabilire la frequenza, quindi settimanale, giornaliera oppure nessun riepilogo, io stabilisco giornaliera, per quel che riguarda il fuso orario lo lasciate invariato e potete tranquillamente chiudere la mail perché il vostro compito è terminato. A questo punto vediamo cosa vede l'insegnante, torniamo nella Classroom, allo studente per il quale è invitato il tutore viene accompagnato il nome del tutore, non seguito più della scritta invitato, tutore che posso rimuovere in qualsiasi momento cliccando sui tre puntini e sulla voce rimuovi tutori. Grazie e arrivederci!